Nello Sazzano, partita dura, come ci si aspettava, un commento? Sì, è stata una partita come ci aveva già accennato il mister durante la settimana perché l'abbiamo studiato guardando i video, sapevamo che era una squadra comunque molto di corsa, di gamba, per cui ci poteva mettere in difficoltà, ma tutto sommato per fortuna siamo riusciti fino alla fine a cercare il pareggio a tutti i costi e ce la siamo riusciti. Ecco, partita sbloccata abbastanza velocemente grazie alla punizione di Falletti, poi su due ripartenzi due gol? Sì, era proprio quello che ci aspettavamo nel loro ripartenza perché hanno l'attaccante che ha grande gamba, per cui anche se avendo lì studiati ci siamo fatti beccare, siamo stati un po' ingenui. Ecco, però le partite come questa si rischia di non recuperarle, magari in un altro momento non si sarebbe recuperata, è stato importante almeno aver tirato via un punto. Sì, si rischia di non recuperarle, però noi di squadra abbiamo grande carattere e non abbiamo mollato fino alla fine cercando di pareggiarla a tutti i costi, ci siamo riusciti e abbiamo dimostrato di avere grande carattere anche. Adesso per noi una sosta anticipata, visto che non giocheremo mercoledì, gli auguri ai nostri tifosi? Sì, ma volevamo augurare da parte mia e di tutta la squadra tanti auguri a tutti i tifosi d'Ernani e un buon inizio anno.